Un saluto a tutti gli utenti di Hardware Upgrade, è arrivato il momento di Xiaomi Mi 6, il nuovo top di gamma di quello che è probabilmente il produttore cinese più preoccupante in occidente. Il suo segreto è un mix di qualità e prezzi molto convenienti e sono questi anche gli ingredienti principali del nuovo Mi 6. Iniziamo dal display, Xiaomi Mi 6 è uno smartphone con pannello LCD IPS integrato, capace di offrire una buona densità dei pixel e una riproduzione dei colori fedeli al reale. Nei nostri test abbiamo registrato uno fra i valori più alti in assoluto per quanto riguarda la luminosità massima e un rapporto di contrasto superiore ad 820 su 1 impostando la luminosità al massimo via software. Anche sul fronte puramente qualitativo, il display di Xiaomi Mi 6 non delude. Sono migliorabili invece gli angoli di visione, a quelli più elevati i neri tendono ad ingrigirsi e divenire via via sempre più chiari. Molto bello anche il design. Mi 6 è un mix fra iPhone 6 nella parte frontale e Galaxy S7 per quella posteriore, il che non è una critica, anzi. Esteticamente il top di gamma cinese sa di premium ovunque lo si guardi, con un retro in vetro che non si graffia facilmente e una parte frontale piuttosto sobria, senza luoghi di sorta. Tende un po' a scivolare, non solo dalle mani ma anche quando riposto sui piani un po' inclinati. Per superire a questo problema, Xiaomi fornisce una custodia nella dotazione originale che però peggiora drasticamente l'estetica del dispositivo. Sulla parte frontale troviamo tre tasti, tutti capacitivi. Quello centrale, più visibile e ribassato rispetto al resto della superficie, implementa un sensore di impronte rapido e molto affidabile. Gli altri sono invisibili se non utilizzati e consentono di andare indietro o nella schermata di selezione delle app in background. Sono comodi ma bisogna farci l'abitudine dopo i primi utilizzi dello smartphone. Xiaomi Mi 6 è uno dei primi dispositivi sul mercato ad integrare il processore Snapdragon 835, un octa-core con architettura proprietaria Qualcomm che rappresenta la sua punta di diamante nell'intera line-up di processori mobile. Questo si traduce con prestazioni estremamente elevate in tutti gli ambiti. Xiaomi Mi 6 è molto reattivo nell'apertura delle app, anche quelle di terze parti, e vanta forse la migliore fluidità mai vista nel mondo Android per quanto riguarda le animazioni della UI e lo scrolling di liste e pagine web. Il merito non è solo dello Snapdragon 835, ma anche e soprattutto della MIUI 8, la personalizzazione proprietaria di Xiaomi basata sull'ultima versione di Android disponibile al grande pubblico, la 7.1 Nougat. La situazione software per Xiaomi Mi 6 non è però solamente rosa e fiori, visto che lo smartphone non è importato ufficialmente in Italia, ma viene venduto da rivenditori di terze parti. Questo si traduce in una situazione frastagliata per quanto riguarda il discorso ROM, soprattutto nelle prime settimane dal lancio i vari rivenditori inseriscono ROM personalizzati contenenti bloatware e app pubblicitarie indesiderate. Nel nostro caso l'esperienza è stata comunque positiva, lo abbiamo ricevuto da Gearbest con ROM Custom priva di bloatware, ma tradotta in italiano, ricevendo poi automaticamente l'official internazionale di Xiaomi. Il dispositivo ci è arrivato con Google Play Store e le app Google già installate al primo avvio. La MIUI 8 è il fiore all'occhiello di Xiaomi Mi 6 di tutti i prodotti della società, non integra molte funzionalità accessorie e tuttavia rende l'interfaccia di Android più allegra e giocosa, con temi intercambiabili e offrendo un'attenzione per i dettagli da primo della classe. La fotocamera posteriore offre scatti di ottima qualità, paragonabili anche se leggermente inferiori rispetto a quelli dei top di gamma più blasonati del momento. Per ottenere questi risultati Xiaomi Mi 6 fa affidamento a due sensori da 12 megapixel, il primo abbinato ad un obiettivo da 27 mm, l'altro da 52 mm. Come avviene su iPhone 7 Plus, questa soluzione consente di effettuare scatti con zoom ottico 2x oltre a quelli tradizionali. Entrambi i moduli offrono fotografie di ottima qualità, anche se in presenza di scarse condizioni di luce viene comunque utilizzato il modulo principale per evitare il micromosso con l'obiettivo tele. Passiamo adesso all'autonomia. La durata della batteria su una singola carica è molto buona. Nei nostri test lo smartphone ha sfiorato i risultati del collega Redmi 4 Pro, sempre di Xiaomi, che implementa una batteria da quasi 1000 mAh in più. Il merito è di Snapdragon 835 e ancora una volta dell'ottima MIUI. Nell'uso di tutti i giorni Xiaomi Mi 6 è uno smartphone mediamente affidabile sul fronte dell'autonomia e riesce ad arrivare all'ora di cena anche con un uso massiccio. Ricordiamo infine che Mi 6 non ha il supporto della banda 20 da 800 MHz per il 4G, quindi con alcuni operatori, vedasi Wind in Italia, potrebbe non agganciare il segnale nelle zone, ad esempio quelle più periferico e nascoste coperte con questa tecnologia. In definitiva, Xiaomi Mi 6 è uno smartphone che può davvero impensierire Apple, Samsung e simili. Offre ottime qualità a 360 gradi e ad un prezzo estremamente conveniente che si aggira fra i 370 euro circa delle varie offerte e i 420 euro. A questo prezzo c'è poco di paragonabile, anche se sul nuovo Mi 6 mancano le innovazioni nel design e nel display che hanno contraddistinto gli ultimi annunci di Samsung ed LG e manca la Wanda V20. C'è poi anche il discorso garanzia, in Europa bisogna affidarsi al rivenditore visto che Xiaomi non opera ufficialmente nei nostri territori, ma se per voi tutte queste considerazioni non sono importanti, Mi 6 può essere davvero un ottimo e affidabilissimo compagno di viaggi in tutte le circostanze. Con questo Xiaomi Mi 6 abbiamo finito e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a mettere un mi piace e di seguirci anche nel nostro canale YouTube. Non dimenticate inoltre di seguirci su Facebook e di leggerci sulle pagine di Hardware Upgrade. Ciao a tutti e al prossimo video!